Il sindaco di Danzica Il sindaco di Danzica al vice sindaco alla popolazione intera era un sindaco solidale, un sindaco dall'apertura mentale che voleva un'Europa senza filo spinato e senza mura e quindi da questo punto di vista si lavorava anche insieme per l'Europa dei diritti dei popoli e delle città per quel neomunicipalismo che può portare alla costruzione di un'Europa forte e solida ma più giusto. Più uguale, più solidale. Quindi solidarietà di Napoli alla città di Danzica per questo atto vile, criminale e barbaro che ha portato all'uccisione del sindaco di Danzica.